I consiglieri comunali dell'EPD, Dolce e Petitto, chiedono l'azzeramento della giunta a Ruvolo. Dolce aggiunge, la giunta a Ruvolo ha deluso i cittadini. Pulizia al Comune, le lavoratrici da sei mesi senza stipendio. Polizia di Stato, arrestato Francesco Fiandaca, pregiudicato Nisseno. E sempre la polizia ha denunciato un maggiorenne e due minorenni per lesioni personali aggravate e rapina. Controlli antidroga dei carabinieri nelle scuole con il nucleo cinofili, sequestrata sostanza stupefacente nelle classi. 2 aprile, giornata mondiale sull'autismo. De Ors, Confcommercio Caltanissetta, subito il regolamento, basta, rinvii. A tra poco. Benvenuti ad una nuova edizione di TCS News. Apriamo il nostro telegiornale con la conferenza stampa indetta questa mattina dai consiglieri comunali del PD, Dolce e Petitto, che chiedono l'azzeramento immediato della giunta a Ruvolo. Sentiamo il consigliere Annalisa Petitto. Questa mattina conferenza stampa dei consiglieri del PD, Annalisa Petitto e Francesco Dolce. Un documento consegnato ai giornalisti per essere reso noto alla città, un documento abbastanza critico nei confronti dell'amministrazione Ruvolo. In pratica, a due anni, dite, non è stato realizzato quasi nulla. I cittadini sono scontenti e chiedete l'immediato azzeramento della giunta. Sì, il nostro è un documento critico che abbiamo redatto con grande amarezza ma con profonda convinzione. Non abbiamo fatto solo dei discorsi generici ma abbiamo puntualizzato tutte quelle iniziative che dovevano essere portate avanti nel corso di questi due anni o che se sono state avviate non sono state avviate nel modo più giusto. Noi chiediamo che questa amministrazione, questa giunta, cambi nettamente passo. Per cambiare passo è necessario che si doti di profili politici perché abbiamo denunciato la grande assente di questa amministrazione che è proprio la politica. Crediamo che la stagione dei tecnici, degli esperti sia finita e che la città ha bisogno non solo di profili politici ma di una visione politica della città. È la visione politica di una città che consente di dare le risposte concrete, in maniera coerente, in maniera sistematica alla città. Il PD fa parte della maggioranza, voi avete due assessori in giunta, quindi chiedete che anche i vostri assessori si dimettano? Noi abbiamo criticato questo modo in cui è stata composta sostanzialmente la giunta e anche le caratteristiche che il sindaco ha chiesto da sempre ai partiti rispetto agli uomini o alle donne che hanno partecipato a questa giunta. Quindi è inutile nascondersi dietro le parole. È chiaro che è una critica anche al nostro partito, sebbene il partito alla fine in qualche modo sia anche conformato a determinati diktat o a determinati identikit e criteri che il sindaco stesso aveva chiesto ai partiti dell'alleanza. Noi chiediamo l'azzeramento totale, chiediamo l'azzeramento senza sé e senza ma. Vorremmo tanto che nel mezzo del cammin di questa amministrazione si riuscisse davvero a cambiare passo, perché il tempo è ancora giusto per poter dare a questa città dei segnali concreti. Avete anche detto che se non viene azzerata la giunta è meglio tornare al voto. Sì, l'abbiamo detto perché riteniamo che in questo momento di grande crisi economica, di grande crisi sociale, sia troppo importante fare qualcosa davvero di concreto per la città. Per cui se non si riesce davvero ad incidere nei bisogni della città, ma anche con dei segnali immediatamente tangibili che danno comunque una prospettiva alla nostra città e allora a quel punto, anche capitalizzando un malessere comunque diffuso che c'è tra i nostri concittadini, allora a quel punto se non si è in grado di incidere è inutile perdere tempo. Quindi come vi comporterete in Consiglio Comunale? Noi ci comporteremo verificando atto per atto quelle che sono le coerenze, gli atti e le iniziative amministrative in coerenza con il programma elettorale. Non c'è dubbio che se le iniziative politiche e gli atti amministrativi che verranno sottoposti al vaglio del Consiglio Comunale risultano in linea con il programma dell'alleanza per la città, è chiaro che noi le voteremo, a patto che chiaramente nel metodo e nella sostanza gli stessi siano stati comunque condivisi preventivamente e con ragionamenti politici che purtroppo per il momento sono mancati con tutte le forze dell'alleanza. L'amministrazione deve prendere atto che la situazione al maggio del 2014, cioè al giorno dopo le elezioni, è profondamente mutata e che all'interno del Consiglio Comunale c'è una nuova geografia politica di cui ci siamo resi conto tutti, probabilmente tranne il sindaco stesso. E adesso sentiamo il Consigliere Comunale Francesco Dolce che dichiara la giunta a Ruvolo a deluso i cittadini. I consiglieri comunali del PD Francesco Dolce e Annalisa Petitto hanno indetto una conferenza stampa. In pratica chiedono l'azzeramento immediato della giunta a Ruvolo, pur essendo consiglieri di maggioranza e pur avendo due assessori in giunta, dichiarano che finora il sindaco e la sua giunta non hanno compiuto quanto promesso in campagna elettorale e i cittadini sono scontenti. Parliamo un po' dei punti che secondo voi il sindaco non ha rispettato. I punti che abbiamo sottolineato durante la conferenza stampa sono tanti. In generale abbiamo detto chiaramente che alcune idee che potevano anche essere condivise probabilmente l'amministrazione non ha previsto che si creassero le precondizioni perché le azioni amministrative venissero in qualche modo avessero dei benefici rispetto alla nostra città e alla nostra comunità. Abbiamo fatto riferimento al centro storico sulla cui pedonalizzazione siamo sempre stati favorevoli ma abbiamo sottolineato per tempo che prima di arrivare alla pedonalizzazione sarebbe stato giusto e utile provvedere a fornire una serie di servizi a creare una serie di manifestazioni culturali che potessero attrarre i cittadini in centro storico abbiamo parlato di un regolamento della mobilità invece si è proceduto senza creare le precondizioni alla chiusura del centro storico abbiamo fatto riferimento alle opere di compensazione anche lì crediamo vada fatta chiarezza e crediamo che il sindaco debba farsi portavoce anche con molta durezza di quelle che sono le istanze del nostro territorio abbiamo l'esigenza rispetto a un'opera di compensazione fondamentale che è lo snodo che collegherebbe la zona sud della città con lo scorrimento veloce con l'autostrada Palermo-Catania e con la stazione ferroviaria dei Exirbi di comprendere se questa opere di compensazione rientra nei programmi di questa amministrazione e se si vuole farla a voce grossa per fare in modo che si realizzi e anche rispetto alle altre opere di compensazione vorremmo maggiore chiarezza uno dei cavalli di battaglia è stato l'ufficio Europa di questa giunta purtroppo sottolineo purtroppo a distanza di due anni non è stato realizzato praticamente nulla in un momento in cui gli stanziamenti regionali e nazionali evidentemente sono sicuramente minori agli anni passati l'unico percorso che si può intraprendere è quello di intercettare dei finanziamenti europei ed invece purtroppo abbiamo sentito parlare di finanziamenti persi o riacciuffati in extremis quando altro si sarebbe dovuto fare abbiamo fatto riferimento anche al campus biomedico del quale sinceramente ancora oggi non abbiamo compreso cosa sia stato fatto e cosa sia stato portato avanti anche per quanto riguarda l'università in generale crediamo che non ci sia stata la giusta spinta sul consorzio universitario per creare le condizioni per rafforzare ciò che già abbiamo in città quindi corsi di laurea in medicina e di ingegneria elettrica e per fare in modo che nuovi corsi di laurea possano essere previsti a partire da settembre del 2016 i temi sono stati avete puntato il dito anche sulla settimana santa sì abbiamo puntato il dito su quella che è la manifestazione più importante della nostra città la giunta aveva supportato e ha fatto in modo che la vara andasse all'expo un'idea che poteva anche essere condivisa a patto che si creassero le condizioni un piano di comunicazione organizzato per tempo per fare in modo che la vara all'expo non fosse soltanto un caso isolato ma che ci fosse un progetto intorno a quel viaggio purtroppo questo non è avvenuto un piano di comunicazione è stato fatto a 3-4 giorni dalla settimana santa evidentemente non ha funzionato ma facciamo riferimento anche ai punti ristoro durante la settimana santa durante le processioni avremmo auspicato e l'avevamo detto anche per tempo che l'amministrazione prevedesse dei punti Mercato Grazia Piazza Grazia e anche dove è presente l'ufficio tecnico della provincia di creare dei punti proprio ad hoc per i commercianti e per gli ambulanti invece ancora una volta si è dato spazio agli ambulanti nel corso delle processioni e questo sinceramente inammissibile anche da un punto di vista del decoro urbano pulizie al comune le lavoratrici da sei mesi senza stipendio sentiamo i sindacalisti dell'UGL Oliveri e Bonaffini Manuel Bonaffini e Carmelo Oliveri dell'UGL questa mattina hanno avuto un incontro con gli assessori Pastorello e Tricoli in pratica le donne che fanno le pulizie al comune di Caltanissetta non percepiscono lo stipendio da sei mesi l'ultimo stipendio l'hanno avuto ad ottobre 2015 innanzitutto cosa è emerso per quale motivo non percepiscono lo stipendio? perché ormai è diventata una normalità e un'abitudine non pagare i lavoratori non riusciamo a capire le questioni personali che ci sono tra l'amministrazione comunale e la ditta per una problematica di fatture da corrispondere ci devono andare di mezzo le lavoratrici abbiamo chiesto all'assessore Boris Pastorello e al vice sindaco Tricoli di attivarsi immediatamente e trovare una soluzione immediata per dare risposte alle lavoratrici noi questo modo di agire di non mettere immediatamente in gara d'appalto i servizi che vengono conclusi con queste proroghe ci troviamo sempre ad affrontare quotidianamente le problematiche di questi lavoratori e di altre categorie ma in pratica cosa è successo? non è stata fatta la gara d'appalto è stato prorogato l'incarico alla ditta che si occupa delle pulizie ma il problema nelle fatture qual è? allora per quello che conosco fino ad oggi è che le prime fatture sono state scondate quindi hanno fatto una sanatoria delle fatture vecchie scondate di una percentuale rispetto all'importo la ditta ha inviato le nuove fatture con il pagamento in dero per come previsto dall'appalto e pare che il comune questa somma in dera non la voglia pagare e quindi continuare a fare il pagamento delle spese mensili con lo scondo che è stato fatto sulla sanatoria delle vecchie fatture abbiamo rappresentato all'amministrazione che a noi tutte queste problematiche tecniche amministrative non possono impedire il pagamento da parte della ditta nei confronti delle lavoratrici è un problema che riguarda l'amministrazione e la ditta che se la sbrigassero loro ma pagassero puntualmente le lavoratrici che oltretutto hanno uno stipendio che si aggira intorno alle 300 euro mensile stiamo parlando veramente di somme ridicole e quindi si fanno anche sacrifici per affrontare queste problematiche quante sono in tutto le lavoratrici sono 10 in pratica ogni volta come è accaduto anche per le menze scolastiche ci sono problemi tra amministrazione e ditta però a rimetterci sono sempre i lavoratori questo purtroppo è diventato di routine come diceva appunto il mio collega chi ci va di mezzo poi sono sempre le lavoratrici noi quello che abbiamo chiesto oggi e l'incontro che abbiamo ottenuto con l'amministrazione era un chiarimento anche per sapere l'amministrazione che cosa ne pensa di tutta questa situazione e a quanto pare l'amministrazione comunque si è resa disponibile a cercare di trovare una soluzione al problema avete rinnovato l'incontro? sì ci siamo praticamente ridetti di ritrovarci giovedì al pomeriggio alle 4 e mezza con tutti gli attori principali compreso ditta assessore al ramo e molto probabilmente anche il sindaco e adesso la cronaca la polizia di Caltanissetta ha arrestato Francesco Fiandaca pregiudicato Nisseno i particolari nel servizio questa mattina 1 aprile gli agenti della polizia di stato della sezione volanti di Caltanissetta hanno tratto in arresto Francesco Fiandaca pregiudicato Nisseno di 29 anni perché colpito dall'ordinanza emessa dal GIP presso il tribunale di Caltanissetta su richiesta del PM Maria Carolina De Pasquale per i reati di concorso in furto aggravato ricettazione resistenza pubblico ufficiale possesso di chiavi alterate Grimaldelli commessi a Caltanissetta lo scorso 18 febbraio 2016 unitamente a tre complici ancora non individuati Fiandaca persona nota alle forze di polizia per svariati precedenti per reati di furto aggravato ricettazione associazione a delinquere estorsione danneggiamento e altro già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale la notte del 18 febbraio fu fermato dagli agenti della sezione volanti travisato nel corso di un inseguimento a quattro malviventi che avevano effettuato un furto presso l'esercizio commerciale denominato Sky Internet Point sito in via Scovazzo a Caltanissetta il GIP nell'emettere il provvedimento restrittivo ha analizzato i fatti e gli elementi raccolti nel corso delle indagini ritenendo sussistere i gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagato in relazione ai reati contestatili dopo le formalità di rito Fiandac è stato condotto presso il carcere Malaspina a disposizione dell'autorità giudiziaria e sempre la polizia ha denunciato un maggiorenne e due minorenni per lesioni personali aggravate e rapina i particolari la polizia di Caltanissetta denuncia un maggiorenne e due minorenni per lesioni personali aggravate e rapina una donna rapinata sette giorni fa riconosce per strada i suoi aggressori che l'aggrediscono nuovamente nel pomeriggio di ieri 31 marzo gli agenti della polizia di stato della sezione volanti sono intervenuti in via al redentore perché era stata segnalata la presenza di tre soggetti resisi poco prima autori dell'aggressione a una donna sessantenne i poliziotti giunti sul posto nei pressi di un supermercato hanno individuato un ventunenne con pregiudizi di polizia per i reati di furto estorsione e maltrattamenti in famiglia e due minorenni incensurati una ragazza sedicenne e un ragazzo quindicenne due dei tre soggetti il maggiorenne e la ragazza erano stati riconosciuti anni e dal figlio di lei quali gli autori di una rapina subita dalla signora lo scorso 25 marzo infatti alle 17 circa del 25 marzo in via Pampillonia la signora fu aggredita con un colpo alla nuca e scippata della propria borsa dalla ragazza sedicenne che si diede poi a precipitosa fuga assieme al complice maggiorenne per via Marrocco per tala aggressione la donna recatasi all'ospedale fu giudicata guaribile in 30 giorni ieri nel transitare per via Redentore con il figlio la donna ha riconosciuto i due soggetti che una settimana fa l'aggredirono e le sciparono la borsa dalle mani i due soggetti il maggiorenne e la ragazza minorenne accompagnati da un altro minore per tutta risposta alle accuse della donna hanno risposto aggredendola nuovamente per poi darsi a precipitosa fuga prima di essere fermati dai poliziotti della volante e condotti in questura questa mattina in sede di formalizzazione di denuncia gli aggrediti donna sessantenne e figlio hanno riconosciuto nei tre individui gli autori dell'aggressione di ieri pomeriggio e per quanto riguarda il maggiorenne e la ragazza minorenne anche gli autori della rapina del 25 marzo scorso per questi motivi tre soggetti dopo le formalità di rito sono stati denunciati alla procura della Repubblica ordinaria e presso il Tribunale per i minorenni per i reati di lesioni personali in concorso l'uomo e la ragazza inoltre anche per il reato di rapina aggravata in concorso Controlli antidroga dei carabinieri nelle scuole con il nucleo cinofili sequestrata sostanza stupefacente nelle classi Un blizza antidroga con l'ausilio delle unità cinofile di Palermo Villa Grazia è stato eseguito dai carabinieri di Gela in tre istituti della cittadella scolastica di Piano Notaro il tecnico industriale Emanuele Morselli il liceo scientifico Elio Vittorini e l'istituto per geometri Ettore Majorana I militari con la collaborazione di presidi e insegnanti hanno perlustrato classe per classe trovando 10 grammi di sostanze stupefacenti tra ascisce e marijuana nascosse dietro un termosifone sotto il davanzale di una finestra Due studenti alla vista del cane antidroga Ulisse che già baiava nella loro direzione hanno consegnato spontaneamente gli spinelli che custodivano in tasca negli slip Sono stati segnalati alla prefettura come assuntori di stupefacenti e consegnati ai genitori Erano stati gli stessi insegnanti e dirigenti scolastici a richiedere l'intervento dei carabinieri dell'arma perché da mesi notavano nel piazzale della scuola la sospetta presenza di estranei probabili spacciatori di droga domani 2 aprile giornata mondiale sull'autismo iniziative anche a Caltanissetta Lella Ficarra presidente dell'ISPED Ollus domani 2 aprile è la giornata dell'autismo e anche Caltanissetta ovviamente aderisce con diversi appuntamenti quali sono? Allora avremo questa giornata mondiale nissena che si svolgerà e si articolerà in due fasi la prima fase sarà l'istituto superiore senatore di Rocco agrario alberghiero alle ore 9.30 dove ci sarà un convegno dove interverranno anche esponenti degli uffici delle istituzioni locali gli psicologi che si prendono cura dei nostri figli quotidianamente e poi avremo una seconda parte che si svolgerà qui in piazza Garibaldi alle ore 12 ci sarà un flash mob a cura dei ragazzi di una classe dell'istituto senatore di Rocco un girotondo inclusivo che includerà simbolicamente le persone disabili e infine il lancio dei palloncini di colore blu questo colore blu non è stato scelto a caso a livello internazionale è stato riconosciuto come il colore la tinta enigmatica che simboleggia l'autismo per diffondere la cultura della consapevolezza della conoscenza della problematica di chi vive l'autismo che sapete è una patologia molto complessa e che condiziona pesantemente l'indirizzo della vita familiare noi con questa giornata vogliamo ulteriormente ancora una volta chiedere la presenza diciamo delle istituzioni affinché si possano implementare i servizi in favore soggetti con autismo poco fa siamo stati ricevuti alla direzione generale abbiamo avuto la certezza che stanno finalizzando diciamo tutti i loro sforzi le loro risorse affinché possa essere reso permanente il centro per l'autismo tuttavia c'è da dire che da un punto di vista qualitativo funziona molto bene da un punto di vista delle ore di trattamento onestamente riscontriamo delle carenze noi vorremmo che queste venissero implementate allo scopo di garantire un servizio a tutti i soggetti presenti quante ore sono al momento allora i bambini piccoli al centro di agnosi e trattamento intensivo fanno tre trattamenti settimanali mentre i grandi al centro diurno grosso modo due pomeriggi settimanali per tre ore devo dire però che noi l'intervento il cambiamento nei ragazzi lo vediamo è positivo solo che dovrebbe essere implementato un'altra cosa che noi chiediamo con questa giornata perché non sia soltanto il 2 aprile noi viviamo l'autismo tutti i giorni e vedete che la famiglia rimane logorata Mattarella diceva nella giornata della disabilità intellettiva che le famiglie con autismo con disabilità non devono essere lasciate da sole che il peso deve ricadere su tutte le forze sociali su tutte le parti sociali ognuno di esse deve prendersi la propria responsabilità con questa giornata noi chiediamo l'applicazione dell'articolo 14 della legge 328 del 2000 che diciamo si prefigge l'idea di elaborare un piano educativo individualizzato per tutte le fasi della vita istruzione formazione e lavoro perché la disabilità non finisce con il completamento della scuola le famiglie devono essere lasciate sole non possono essere lasciate sole devono essere predisposti i servizi in favore degli adolescenti e degli adulti domani sabato 2 aprile nell'impianto sportivo pian del lago 2 dalle ore 10 alle ore 17 si svolgerà una delle due tappe siciliane l'altra si terrà a Palermo domenica 3 aprile della manifestazione la giornata del cricket per profughi e rifugiati politici l'iniziativa che si svolgerà a Caltanissetta in contemporanea con altre 10 città d'Italia è organizzata dalla federazione cricket italiana con il patrocinio dell'assessorato allo sport del comune di Caltanissetta del CONI nazionale e dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati e nasce con lo scopo di favorire l'integrazione attraverso il cricket per i molti nuovi ospiti dell'Italia arrivati recentemente attraverso percorsi spesso difficili se non addirittura estremi da paesi dove il gioco è punto imprescindibile del tessuto culturale e sociale alla manifestazione parteciperanno le rappresentative di Caltanissetta e il pubblico potrà seguire le fasi del match avvalendosi della guida qualificata di arbitri e istruttori federali che forniranno un valido supporto alla comprensione delle leggi di questo gioco appassionante ma poco conosciuto dalle nostre parti recital del chitarrista Massimo Martinez per il terzo appuntamento della stagione concertistica dell'Associazione Amici della Musica in programma a Caltanissetta presso la biblioteca Scarabelli con inizio alle 19 Massimo Martinez vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali si esibisce come solista in varie formazioni da camera per importanti enti e associazioni musicali nazionali ed estere colpito da profonda passione per la cultura andalusa segue vari corsi di chitarra flamenco con i chitarristi spagnoli Alberto San Miguel e Carlos Paceco Torres si esibisce in spettacoli sia da solista che in collaborazione con varie compagnie di danza chitarrista eclettico vanta numerose collaborazioni autore di musiche originali ha registrato in studio con vari artisti siciliani Massimo Martinez suona con chitarre del maestro Mario Filetto di Catania Deors interviene Confcommercio Caltanissetta subito il regolamento basta Rinvi A che punto è l'iter del regolamento che disciplina l'installazione dei Deors per i locali pubblici è l'interrogativo che ripropone Confcommercio Caltanissetta attraverso il presidente provinciale Massimo Mancuso dopo aver appreso che nelle scorse ore l'assessore comunale allo sviluppo economico Massimo Bellomo ha prorogato i termini per l'installazione dei Deors fino al 31 ottobre 2016 Sulla tematica nei mesi scorsi Confcommercio Caltanissetta aveva partecipato ai lavori della seconda commissione consigliare del comune offrendo suggerimenti utili sulla tempistica e sulle modalità di collocazione degli spazi di ristoro all'aperto annessi ai locali di pubblico esercizio Già quattro anni fa Confcommercio presentò una bozza di regolamento sui Deors con linee guida ben precise e comunque modificabili secondo specifiche esigenze apprezziamo lo sforzo dell'assessore Bellomo che sin dal suo insediamento ha dimostrato di voler approvare il regolamento per contribuire al processo di crescita delle imprese e della città ha commentato il presidente provinciale di Confcommercio è opportuno evidenziare che si tratta di una proroga legata all'empass sui tempi di approvazione del regolamento di competenza delle commissioni consigliari e conseguentemente del Consiglio Comunale non vogliamo entrare nelle liti politiche ma la nostra associazione interessa che siano date risposte in tempi rapidi alle esigenze degli operatori commerciali e dei cittadini non sono più accettabili ulteriori rinvii aggiunge Massimo Mancuso sull'installazione dei Deors Confcommercio Caltanissetta evidenzia i rischi di possibili ritardi sul rilascio delle autorizzazioni ai quali possono incorrere i gestori di attività di ristoro con evidenti ripercussioni negative sugli investimenti programmati siamo d'accordo che il regolamento debba contenere delle restrizioni sull'estetica e gli spazi assegnati soprattutto se collocati in centro storico ma siamo contrari all'imposizione di progetti standardizzati ai quali gli operatori del settore debbono attenersi osserva il presidente provinciale di Confcommercio non capiamo inoltre chi dovrà progettare i Deors sarà compito diretto del comune oppure si procederà ad affidare l'incarico attraverso un bando per accelerare il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione dei Deors Confcommercio Caltanissetta propone di costituire una conferenza di servizi con la convocazione di enti e organismi competenti sulla materia così da fissare un calendario per la valutazione del progetto sulla durata dell'autorizzazione alle imprese del settore la confederazione ha proposto che la prima licenza abbia una valenza di tre anni senza ulteriori oneri al fine di consentire l'ammortamento dell'investimento gli esercenti non possono più aspettare la burocrazia o le beghe politiche per lavorare conclude Mancuso sono inaccettabili tempi lunghissimi e adesso la rubrica salute che oggi vi parlerà del fatto che stare troppo seduti fa veramente male quando stiamo troppo seduti più di tre ore al giorno mettiamo la nostra vita in pericolo aumentando inconsapevolmente il rischio di morte prematura è quanto ha calcolato lo studio dell'università di San Paolo in Brasile pubblicato su American Journal of Preventive Medicine i ricercatori hanno analizzato dati di precedenti lavori da 54 paesi e hanno considerato i decessi e le dimensioni della popolazione collegandoli al tempo trascorso seduti più del 60% delle persone in tutto il mondo stima l'Equip spende più di tre ore al giorno in posizione sedentaria questa cattiva abitudine ha contribuito a 433.000 morti dal 2002 al 2011 dall'analisi dei dati è emerso che il tempo medio passato dalle persone in posizione seduta è di 4,7 ore al giorno ridurre del 50% la sedentarietà alternandola a una posizione eretta o con una moderata attività fisica potrebbe far scendere il rischio di tutte le cause di mortalità del 2,3% avvertono gli scienziati ci sono però semplici azioni che possiamo fare per prevenire le conseguenze di una prolungata sedentarietà alzarsi dal proprio posto di lavoro e andare a bere qualcosa o semplicemente alzarsi di tanto in tanto e passare del tempo in piedi che da solo aumenta il dispendio energetico e anche per oggi abbiamo concluso vi lascio alla rubrica salute e benessere che oggi vi parlerà della cannella brucia grassi grazie per l'ascolto e appuntamento alla prossima edizione la cannella ha delle proprietà brucia grassi e sarebbe in grado di contribuire alla diminuzione del peso corporeo lo sostiene uno studio pubblicato negli scientific reports di Nature ad opera degli scienziati del Nestlé Research Center di Los Angeles e dell'Università di Tokyo i ricercatori hanno scoperto in particolare che l'aldeide cinnamica sostanza principale che conferisce il particolare aroma alla cannella fa aumentare i livelli di dispendio energetico e di ossidazione del grasso questo spiegano gli esperti grazie alla stimolazione di un processo chiamato termogenesi che consiste nella produzione di calore da parte dell'organismo soprattutto nel tessuto adiposo e muscolare si favorisce così l'ossidazione del grasso e la conseguente diminuzione del peso le particolari proprietà della cannella sono analoghe a quelle del peperoncino in questo caso è la capsaicina che oltre a conferirgli il tipico sapore piccante esercita un'azione antifame è proprio questo principio attivo che fa aumentare il calore del corpo e il consumo di ossigeno fino a 20 minuti dopo il pasto secondo gli esperti quindi realizzare ricette opportunamente speziate potrebbe rappresentare un vantaggio terapeutico utilizzando queste sostanze non solo per insaporire i piatti ma anche per ricavarne un vantaggio per la propria salute per la propria salute per la propria salute Grazie a tutti.